Noi siamo abituati a vivere la nostra vita attraverso memoria, insegnamenti e soprattutto i sensi. La vista è quella più potente perché ci dona le immagini che sono il mezzo preferito del cervello, ma vanno comunque verificate. Al buio siamo disorientati e tutto sembra incerto, ecco perché tendiamo a fare sempre le stesse scelte piuttosto che cambiare. Vogliamo rimanere al sicuro e per il cervello il sicuro è solo quello che si conosce. Ma come già detto è solo condizionamento perché altrimenti come farebbero le persone non medenti a fare le cose comuni a tutti ed alcuni di loro anche cose straordinarie. Il vero mostro che vediamo nel buio è il nostro io che cerca di farsi largo e spesso la paura di scoprire delle cose che non vorremmo sapere di noi ci porta ad adattarci ad un'oscurità negativa che ci assorbe sempre più. Ma si può fare marcia indietro perché la via è sempre a doppio senso e questo lo scegliamo noi. Friedrich Nietzsche disse E se guardi a lungo un abisso, anche l'abisso guarda dentro di te. Ciao e al prossimo.